Un ordigno ha colpito un bus turistico nel quartiere Al Arran, alla periferia del Cairo, vicino all'area archeologica di Giza Secondo il Ministero dell'Interno, citato dal quotidiano di Stato egiziano Al Arran, il bilancio complessivo è di due morti e 12 altre persone ferite Il governo precisa che a bordo del bus viaggiavano 14 turisti, tutti i vietnamiti, e i feriti sono 10 turisti e due egiziani, cioè conducente del bus, e il rappresentante della società turistica Alle 18,15 circa, un ordigno esplosivo improvvisato è stato nascosto accanto a un muro in via Almario Utilla a Giza durante il passaggio di un autobus turistico di 14 turisti nazionalità vietnamita, spiegano dal Ministero, provocando la morte di due turisti vietnamiti e perendo altri 10 turisti, oltre all'autista dell'autobus e il rappresentante della compagnia turistica I servizi di sicurezza si sono immediatamente trasferiti sul luogo dell'incidente I servizi di sicurezza, riferisce Al Arran, si sono immediatamente recati sul luogo dell'esplosione per le indagini A esplodere è stato un ordigno improvvisato, che si trovava sul bordo della strada ed è esploso al passaggio del bus L'ordigno si trovava vicino a un muro lungo Mariutilla Street, nel quartiere di Arran, vicino alle piramidi di Giza Al Cairo L'esplosione è avvenuta intorno alle 18.15 ora locale.I terroristi islamici sono da tempo in guerra con il presidente al-Sisi, uomo forte del Medio Oriente, che sta conducendo una durissima campagna di bonifica contro l'Isis e i suoi alleati, che in Egitto sono molto numerosi L'Isis egiziano vuole destabilizzare il governo del Cairo, vista fallita la prima vera araba orchestrata dall'estero, e per farlo cerca di mettere in crisi quello che è il settore più florido dell'Egitto, ossia quello del turismo Ma anche le altre religioni, secondo i dettami del fanatismo islamico, sono state bersaglio dell'Isis. L'anno scorso furono colpite le chiese copte di Tanta e Alessandria d'Egitto, i morti furono 44 Come dimenticare poi gli attentati di Sharm el-Sheikh del luglio 2005, dove una serie di attacchi terroristici suicidi nel principale sito turistico d'Egitto causò ben 88 morti